Salve, buonasera amici, buonasera amiche, buonasera a tutti. Stasera vi sto registrando un altro piccolo video per insegnarvi un utile e antichissimo, veramente antichissimo rituale che facciamo contro le energie negative, nefaste e sempre purtroppo circolanti derivanti dal vampirismo. Ora non pensate esattamente a Dracula di Bram Stoker, io sto parlando del vampirismo energetico, cioè quell'energia negativa che ci succhia via dappertutto, dalla testa, dal corpo, dalla mente, che ci succhia via proprio l'energia e questa forma di vampirismo può arrivare sia da persone, quindi da esseri incarnati, diciamo così, e può arrivare anche da entità poco raccomandabili. Quindi trattiamo di proteggerci o proteggere anche una persona a noi cara, perché si può fare in entrambi i modi, dagli effetti del vampirismo energetico, cioè da coloro che in forma ovviamente di essere umano poco raccomandabile, in forma di entità che ci possono circolare intorno o di ambienti che purtroppo frequentiamo e quindi magari sono saturi di questa energia che poi in certe condizioni ci si può proprio attaccare addosso e ci fa sentire per esempio poco bene, ci fa sentire stanchi, ci fa sentire demotivati, ci manda le cose dell'esistenza in maniera non proprio ottimale, ci sono tante sintomatologie, purtroppo a volte si trascura che determinati nostri problemi possono derivare dal vampirismo energetico, perciò se voi stessi o una persona che vi è cara ha dei problemi, sospettate che frequenti anche persone non proprio per la quale, quindi persone che si approfittano per esempio, persone che comandano, persone che non sono positive, oppure che da un periodo questa persona la vedete strana, la vedete sempre irritabile, stanca, le cose non vanno bene in generale, così come voi stessi ovviamente, stessi sintomi, possiamo pensare che ci sia questa influenza chiamata vampirismo energetico, quindi questo sottrarre energia costantemente, proprio come appunto il vampiro succhia dal collo il sangue, il vampirismo energetico è così chiamato perché questo tipo di vibrazione porta via l'energia della persona. Allora, cosa facciamo in questi casi? Un antico lavoro, un antico rituale, vi sembrerà come gli altri piuttosto semplice, ma come dico sempre o ripeto a volte, nella semplicità a volte c'è una grande saggezza, la saggezza che poi arriva dal tempo, dai tempi dei tempi e dalle varie culture. Dunque, un elemento fondamentale a cui noi non facciamo caso, o meglio, facciamo caso perché lo usiamo spesso, è l'aglio. Vampiri ed aglio non vanno molto d'accordo. In realtà l'aglio, come tutte le piante, come tutti i fiori, come tutte le radici, tutto ciò che viene dalla natura, ha una valenza non solo benefica sul nostro corpo fisico, ma anche sul nostro corpo astrale. Quindi la magia verde si suol dire. Ogni pianta è collegata dell'astralità, ha delle proprietà. In questo caso noi andiamo ad utilizzare una parte dell'aglio che solitamente, senza pensarci, buttiamo via. Vale a dire la buccia. Vedete? Le buccette dell'aglio. Ecco, non buttatele via, conservatele. Magari le mettete via in un barattolo. È proprio nella buccia dell'aglio che tra l'altro in delle culture viene pure bruciata come incenso, comunque nelle defumazioni di purificazione. Quindi la buccia di aglio ci è molto utile, molto preziosa. Ok? Altro elemento che ci serve è il sale. Sale da cucina, sale fino, poi chiaramente se volete usare sale grosso fatelo pure. Però io vi trasmetto questi insegnamenti così come li ho imparati tanto tempo fa, senza fare accenni emagrafici. Poi cosa vi servirà? Vi servirà un pezzettino di carta, un lapis, oppure, qui ho ritagliato da un giornale a caso, la foto vostra o del vostro familiare o della persona a cui tenete, quindi o una foto oppure il pezzetto di carta. Poi vi servirà un cofanettino, tipo una bomboniera con il coperchio ovviamente. In questo caso è un cofanetto di porcellana, potrebbe essere anche di vetro, un portabombon, diciamo una scatolina portagioie, così ben pulita chiaramente. Nel caso voi non l'aveste, semplifichiamo sempre, perché la magia poi si avvale di cose che magari un tempo non c'erano e quindi le persone giocavano con quello che avevano. Nel caso non avete la scatolina in ceramica, in vetro, con il coperchio eccetera, potete usare un barattolo di vetro, sempre col coperchio ovviamente ben pulito. Quindi vediamo che gli elementi come sempre sono piuttosto facili, li abbiamo tutti in casa. In questo caso vedete che non ci sono accenni alle candele perché questo rituale non prevede l'uso diciamo della candela. Allora facciamolo usando la scatolina, però chiaramente potete usare anche un barattolo di vetro, col coperchio. Prendiamo la nostra scatolina, la apriamo ovviamente. Ok, vi faccio vedere. Spero di rientrare in questa inquadratura perché non sono un genio sinceramente della ripresa né una youtuber di quelle chissà chi, questo l'avete capito. Allora prendiamo il pezzettino di carta e scriviamo il nome, il cognome, la data di nascita della persona oppure il vostro nome, il vostro cognome, la vostra data di nascita. Quindi Marco Rossi 11 maggio 1990. Ecco qua, semplicissimo. Marco Rossi 11 maggio 1990. Ma poteva essere anche appunto Maria, Francesca, chiunque. Il nome completo possibilmente con la data di nascita. In alternativa userete una fotografia. Una fotografia o di voi stessi o della persona che volete proteggere. Allora prendiamo il pezzetto di carta con i dati scritti e lo mettiamo sul fondo della scatolina. Così. Ok, perfetto. Poi prendiamo la nostra buccia o paglia di aglio, chiamata anche paglia in certi posti e ne mettiamo un po' un po' sopra. Pochino da coprire, ma insomma non tantissimo. Un po' di paglia di aglio. Così. se volete nulla vieta che possiate aggiungere anche uno spicchio di aglio. Facciamo conto che io lo aggiungo. Va bene, va bene sia con la buccia dell'aglio sia con anche l'aggiunta di uno o due spicchi d'aglio. Se vi sentite fatelo. Poi prendiamo il sale. Sale fino in questo caso e ne mettiamo tipo uno, due, tre, quattro, cinque cucchiaini. Insomma, mettiamo una buona dose di sale. Ecco, vediamo così. Vedete? Il nome sta sotto la paglia di aglio o la buccia di aglio. Sopra c'è il sale. Molto semplice, molto semplice veramente. Poi tappiamo il tutto fatto. Questa scatolina, questo contenitore, lo dovete collocare in un posto tranquillo della vostra casa. Non ci sono particolarità, non ci sono dogmi anche in questo senso. Quindi può essere la camera, può essere un soggiorno, può essere anche potrebbe essere anche la cucina. Comunque sia, non il bagno perché come sempre le vibrazioni del bagno non sono proprio consone. Quindi collocate questa scatolina in un posto tranquillo dove nessuno magari la noti in maniera particolare, dove nessuno l'apra e la lasciate lì sette giorni. Quindi contate il giorno in cui fate il rituale e contate uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giorni. Dopo sette giorni voi la riprendete, questa scatolina, tirate magari fuori, ecco, il fogliettino. Potete riutilizzarlo in realtà, il fogliettino, così come la foto. Quindi o tirate fuori la foto, tirate fuori il fogliettino, andate fuori casa e quindi vi dico, chi ha un giardino, bene, chi ha, quindi giardino, erba, piante, chi ha vicino un albero, va molto bene lo stesso, chi ha un grande vaso può andare bene, comunque sia, può andare bene anche una striscia di terreno dove c'è dell'erba. Chi ha la fortuna di vivere, magari, che ne so, come me, in montagna, può andare anche nel bosco, può andare, può andare appunto nella natura. Comunque sia, tutto questo contenuto, che è stato qui sette giorni, deve essere gettato via in un posto naturale. Quindi, nella forza di madre natura, diciamo così, in modo che questa energia, che è stata assorbita dal cofanetto e tutto quanto, vada a disperdersi. Poi cosa fate? Chiaramente, ripetete, perché a volte può essere veramente buona cosa ripetere il lavoro per qualche settimana di seguito, in modo tale da avere una, sia una protezione costante, è logico ed è chiaro, ma anche da vedere proprio in maniera concreta che o voi stessi, o la persona che volete proteggere, si sente meglio, oppure è meno attaccata, e via discorrendo. Cioè, ognuno sente chiaramente, chi prima, chi dopo, questo è normale, in tutte le operazioni energetiche o magiche, i risultati. Un rituale semplicissimo, antico, vecchio come il mondo, dove appunto, gli elementi sono reperibilissimi, come vi ho fatto vedere, però vi dico che nella sua semplicità può essere veramente qualcosa di molto utile e vi proteggerà molto dagli attacchi di vampirismo, sia umano, sia astrale. Quindi, penso di avervi detto tutto, penso di avervi spiegato tutto, vi auguro come sempre buon lavoro, buon proseguimento, e niente, alla prossima, un bacio da Simonetta.